Parte con Valeria Ciarambino il ciclo di incontri di col diretti con i candidati presidenti alla regione Campania. La candidata 5 Stelle, dopo essere stata a Cuma, dove ha verificato lo stato dei depuratori e delle acque campane, ha voluto rassicurare gli agricoltori sul suo impegno per il rilancio del settore che presenta in Campania vere punte di eccellenza. A chi le chiede della sentenza del TAR, che dichiara De Luca comunque candidabile, la Ciarambino risponde così. Il nostro ricorso al TAR è stato respinto, noi lo consideriamo in ogni caso una vittoria, perché oggi dentro una sentenza c'è scritto nero su bianco che De Luca, pur essendo candidabile, quindi potendosi presentare alle elezioni, risulta ineleggibile ex legge. È già di fatto decaduto il secondo dopo la sua eventuale elezione, scellerata da presidente della regione. Quindi di che cosa stiamo parlando? Nelle prossime ore la col diretti incontrerà il candidato della lista meridionalista Mo Marco Esposito per discutere sul documento programmatico 2015-2020. Intanto continua la campagna del candidato di SEL, Salvatore Bozza, incentrata su sanità, lavoro e diritti. In particolare Bozza accusa la giunta Caldoro di non sbloccare da cinque anni i fondi per l'aiuto ai fitti per le famiglie indigenti.